L'organizzazione di Willow Football è fantastica, qui con grande squadra, Juve, Milano, Roma e questa è un'onora per l'Anderlecht di giocare qui. Per me è la prima volta, ma per la squadra è il secondo anno. L'anno scorso era un po' difficile e questo anno è anche difficile, ma domani è ancora una grande partita con l'Inter. La mia squadra è una grande squadra con un grande e buon giocatore e giocare qui in Italia è il più bello paese del mondo. È una grande esperienza e è molto buona. Ok, grazie mille, la ringrazio.